Oggi faremo un altro giro di super enduro, sono previste ma va Siamo su Brescia Top Trail e oggi stiamo affrontando un tour di super enduro con due belle salite e due discese veramente veramente tecniche La prima discesa che abbiamo fatto oggi è stata quella della corna Fura che scende in quel di Cagnatico Poi siamo risaliti per il Montere, abbiamo raggiunto di nuovo la Croce ed ora scenderemo per il Trail del Bernaco che ci porterà prima al Castagno del Barcöl e poi di nuovo giù a Vaglioterme Vi ricordo di mettere un mi piace qua sotto, di accendere la campanella e di rimanere con noi di Brescia Top Trail per i prossimi episodi che arriveranno Spettacolo Bene qui inizia il Trail della Corna Fura che ci porterà giù in quel di Cagnatico Mi raccomando perché è un sentiero molto vertical dove non bisogna prendere assolutamente troppa velocità Ne abbiamo già fatto una parte la settimana scorsa ma oggi affronteremo la variante di sinistra Mi raccomando ripeto non prendiamo troppa velocità Ok, ok adesso qui al video andiamo a sinistra per il 488 Valcao Subito una S molto impegnativa Attenzione qui, perdere la bici Guarda bene, guarda bene, wow Passaggio tecnico Attenzione Molto vertical 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 bella la corvetta stretta la corvetta stretta la corvetta stretta la corva va a saltare wow meriti a no stress E' impegnativa, ok dai adesso la facciamo, l'impegno è veramente impegnativo, guardate che spettacolo, bellissimo, massaggio, bella, bella anche qui, su, scalatina, scalatina, wow, stiamo qua, yes, yes, ok qui, stiamo sulla sinistra, wow che non so se lo vedete ma è super vertical, wow, di cercare mani inchiodati alla bici, bella, ci dipende, wow, tra i gatti si suda la paura, bellissimo, tra i Dr. Snake, Dr. Snake, wow, subito, ancora, bellissimo, 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 andiamo, adesso c'è un po' di rilascia, faccio la S qui, è ristretta, è ristretta, bellissimo, bellissimo, è anche debbiamente umido, il grippo aumenta, occhi solo quei passaggi sui Tronchi qua di traverso perché sono veramente infimi, ecco qui, tra poco arriviamo al video, bella, 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 ecco siamo in sottobosco, ecco siamo in sottobosco, avete portato questi archetti e la pioggia sono l'infini, facci, sono l'infini da passare, ma li li passiamo, noi siamo in sottobosco, sẽ rimpea da sua hai, segun scoltato, sottobosco, tutto bene, a utilizzare il mezzo fermare le mani in discesa vuol dire che è un buon esercizio è un buon esercizio bello bello stretto dai ancora qua bello bellissimo ragazzi aria che traiettora pulita bellissima qua ci qua ci picchia ecco sono qui andiamo a sinistra andiamo a sinistra sotto la corna forata siamo ancora amati a destra vi ricordate? andiamo a sinistra andiamo sul trail c'è 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 ecco qui c'è un po' di buchetto come vedete per sicurezza scendete non rischiate mai più di tanto adesso si torna a scendere è un piccolo punto di risperimento ma poca roba guardate che trail 20 cm 20 cm di trail ancora natural e che trail ragazzi e che trail come è bello vertical bello lui bello lui bello lui guaci ragazzi che goduria e ora dalla croce ora ci porteremo lassù sulla rocca di bernacco subito un little trail vediamo wow yes riparte yeah guaci super super molliamola 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 bellissimo rock'n'roll destra via 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 rock rock spondina bello bello super salto salto guaci 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 mi è scavato qui salto doppio salto guaci guaci becchia bello bello sponda guac salto yes via 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 scorrere wow sale verso la cima della rocca del bernacco un posto magico misterioso e pieno di leggende bellissimo guardate da dove scenderemo scenderemo quel trail la che scende in costa e poi ci porta più quello la è il garda lake davanti a me guardate bello bene partiamo dalla rocca di bernacco per il trail mi raccomando non prendiamo troppa velocità è subito vertica bello bello subito frettissima bello mi raccomando piano non prendiamo velocità anche perché è molto molto asciutto anche perché è molto molto asciutto qui è un passaggio tecnico qui qua bello via 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 wow qui andiamo a sinistra guardate che spettacolo guardate sbaglio termo sotto in avanti a noi il garda lake che risplende non manca mai eccolo la guardatelo davanti che spettacolo via bello bello il trail faccio spettacolo ragazzi wow wow stagionale snake snake yes actually it's a canyon wow canyon wow occhio di rumpo bellissimo lasciamo andare qui che dobbiamo salire su via grande via ecco il garda lake guardate che bello wow wow questa schiena è bellissima spettacolo spettacolo via 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 spettacolo via via wow wow jolly via 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 Sì, bellissimo Wow Bello Bonda Bello, bello Wow Yes Watch it They're lack of trade Wow Yes Yeah 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 bene siamo giunti alla fine del video vi ricordo se vi è piaciuto di mettere un bel mi piace qua sotto e accendere la campanella qui in alto e vi ricordo di rimanere connessi con noi di brescia top trade spettacolo pronti per le prossime avventure yeah